John Travolta ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema, con interpretazioni che hanno consolidato il suo status di icona nell'industria cinematografica. La sua carriera è stata caratterizzata da applausi, premi e, naturalmente, anche da una certa dose di controversie. Mentre la verità è stata spesso avvolta in sussurri e speculazioni, sembra che il silenzio sia finalmente stato spezzato da colei che porta il nome Travolta, sua figlia. In una dichiarazione che ha scosso il mondo dell'intrattenimento, ha confermato ciò che tutti stavamo pensando. Nel video di oggi esploreremo nel dettaglio la rivelazione della figlia di John Travolta. Per comprendere il significato di queste rivelazioni, è fondamentale esaminare alcuni aspetti chiave riguardanti John Travolta. John Travolta, il più giovane di sei figli, proviene da Englewood, nel New Jersey, a pochi passi dalle vivaci strade di New York. La sua infanzia non può essere definita una tragedia come quella di molte star di Hollywood. Infatti, aveva genitori affettuosi e sostenitori che incoraggiavano i suoi interessi e lo proteggevano dalle dure realtà della vita. Tuttavia, questa educazione idilliaca potrebbe averlo reso un po' viziato e impreparato per il mondo esterno. Come rivela Wensley Clarkson nella sua biografia John Travolta Back in Character, il giovane Travolta era un adolescente timido e poco interessato agli studi, molto legato a sua madre e un po' socialmente imbarazzato. Invece di affrettarsi a completare i compiti, trovava conforto nelle melodie dei musical di Broadway, ponendo le basi per una passione che avrebbe plasmato il suo futuro. Ma, come sanno tutti gli adolescenti che osano essere diversi, emergere può spesso portare a attenzioni indesiderate. Travolta si trovò a subire bullismo e scherni, rendendo i suoi giorni di scuola un'odissea tumultuosa. Nonostante le sue prime difficoltà, la determinazione incrollabile di Travolta lo portò a perseguire i suoi sogni. All'età di 17 anni prese la coraggiosa decisione di lasciare la Dwight Morrow High School e avviarsi verso una carriera nel mondo della recitazione. Poco sapeva che questo salto nel vuoto avrebbe aperto la strada alla sua futura celebrità. La scalata al successo di Travolta iniziò con una decisione audace all'età di 17 anni, quando John, con il consenso dei suoi genitori, decise di salutare la scuola superiore e intraprendere un viaggio audace per seguire la sua passione per la recitazione. Mentre molti dei suoi coetanei si concentravano su percorsi tradizionali, John aveva in mente qualcosa di più grande. Non molti dei miei amici si identificavano con quello che stavo facendo, ricordò con un sorriso. Partecipavo a football e basket e facevo quello che facevano loro, ma non molti ragazzi capivano il fatto che andassi a studi di recitazione di sera. Imperturbato dai detrattori, John fece le valigie e si diresse a New York, dove presto tenne un ruolo nella compagnia in tournée del musical Grease, calpestando il palcoscenico di Broadway con Over Here. La sua stella stava sorgendo e non intendeva permettere a nulla di ostacolarlo. Con uno sguardo determinato, John fece poi il salto a Los Angeles, dove iniziò il suo percorso verso il successo sul grande schermo. La sua prima esperienza a Hollywood lo vide interpretare una vittima in emergency, ma fu la sua interpretazione di Billy Nolan nel film Horror Carry a mettere veramente in moto la sua carriera. Il suo momento di svolta arrivò quando indossò i panni di Vinny Barbarino nella popolare sitcom Welcome Back, Cotter. Il mondo si accorse di lui e la sua presenza magnetica sullo schermo catturò il pubblico ovunque. Ma furono le sue performance travolgenti in Saturday Night Fever e Grease a consolidare il suo status di sensazione internazionale. Nei panni di Tony Manero danzò nel cuore degli spettatori, guadagnandosi una nomination all'Academy Award per il miglior attore all'età di 24 anni. E nei panni di Danny Zuko conquistò il pubblico con il suo carisma indiscutibile, affermandosi come una vera star. Il successo di Grease fu straordinario, con il film che incassò quasi 400 milioni di dollari al botteghino globale. La stella di John brillava più che mai e diventò un nome familiare da un giorno all'altro. Ma non fu solo John a godere dei riflettori. Anche la sua famiglia ebbe un assaggio di celebrità, con sua madre e le sue sorelle, che apparvero brevemente nei suoi film iconici. Era davvero un affare di famiglia, con ciascun membro che contribuiva alla meteora ascesa alla fama di John. Con il passare degli anni, John continuò a incantare il pubblico con la sua presenza sullo schermo, dal suo ruolo in Urban Cowboy al suo singolo di successo, Let Her In. La sua versatilità non conosceva limiti e passò senza sforzo da un ruolo iconico all'altro con grazia. La bellezza della vita sta nelle sfide che ci spingono a migliorare, non credi? E chi meglio di John Travolta per esemplificare questo concetto? La sua carriera è stata un ottovolante di alti e bassi, di battute d'arresto e riprese, e di tutto ciò che sta nel mezzo. Ripercorriamo insieme la straordinaria storia di questo attore iconico. Dopo il successo di Urban Cowboy, Travolta sembrava essere in cima al mondo. Ma poi arrivò Blowout, un film acclamato dalla critica, ma che purtroppo non ebbe il successo sperato al botteghino. Questa conclusione deludente segnò l'inizio di una serie di insuccessi commerciali e critici che momentaneamente fermarono la carriera di Travolta. Da Two of a Kind a Perfect sembrava che la fortuna avesse voltato le spalle a John. Anche il seguito di Saturday Night Fever, Staying Alive, pur essendo un successo finanziario, ricevette critiche aspre dai critici. Travolta rifiutò anche ruoli principali in successi da al botteghino come American Gigolo, An Officer and a Gentleman e Splash, che divennero film iconici con altri protagonisti. Sembrava che le stelle non si stessero allineando per il nostro caro John, ma proprio quando sembrava che ogni speranza fosse perduta, Travolta fece un trionfante ritorno con Look Who's Talking, accanto a Kirstie Alley. Il enorme successo del film al botteghino dimostrò che John aveva ancora ciò che serviva per catturare il pubblico. E poi arrivò Pulp Fiction, un cambiamento di gioco che vide Travolta a recitare in un ruolo inaspettato nei panni di Vincent Vega. Il film non solo risollevò la sua carriera, ma gli valse anche una nomination all'Academy Award. Fu un clamoroso ritorno. Con la carriera di nuovo incarreggiata, Travolta si avventurò nei drammi criminali, dimostrando la sua versatilità come attore. Da Get Shorty a The General's Daughter dimostrò di essere molto più di un semplice attore di un solo ruolo. E non dimentichiamo la sua memorabile interpretazione in Hairspray, dove mostrò nuovamente le sue radici musicali. Con il passare degli anni, Travolta continuò a interpretare ruoli diversi, da Swordfish a Gotti, consolidando il suo status come una forza da non sottovalutare nell'industria. I suoi progetti recenti come The Taking of Pelham 123 e From Paris with Love hanno ulteriormente cementato la sua reputazione come un protagonista nel genere del dramma criminale. E proprio quando pensavi che potesse rallentare, John Travolta non mostra segni di fermarsi. Con progetti futuri come Cash Out e That's Amore, è chiaro che è ancora affamato di nuove sfide. L'uomo è inarrestabile. Ma c'è stato un momento nella sua carriera in cui fece una richiesta audace. Nel 1985 John Travolta si trovò al centro della storia reale britannica, in un modo che nessuno avrebbe potuto prevedere. Tutto ebbe inizio a una cena di stato ospitata dal presidente Ronald Reagan alla Casa Bianca, dove una certa principessa catturò l'attenzione di John. La principessa Diana. Con la serata che si svolgeva in modo festoso, Nancy Reagan si avvicinò a John con una proposta che avrebbe cambiato il corso della serata. La principessa ha un sogno, danzare con te, vuoi ballare con lei stasera? Chiese. E naturalmente John, essendo il gentiluomo affascinante che è, non poteva rifiutare una tale offerta. Con il cuore che batteva forte e l'intera stanza che osservava, John toccò la spalla della principessa e le chiese di ballare. Il resto, come si suol dire, è storia. I due ballarono per tutta la notte con tutti gli occhi su di loro mentre la sala si svuotava per dare loro spazio. La defunta principessa Diana, tragicamente scomparsa nel 1997, indossava una splendida gown di velluto di Victor Edelstein quella notte. Questo abito, ora famoso come il vestito di travolta, è diventato uno dei pezzi più iconici della storia della moda reale. Infatti fu acquistato da Historic Royal Palaces all'asta per ben 264.000 sterline nel 2019. Ma il ballo di John con la principessa non fu l'unica cosa emozionante della sua vita. La sua vita sentimentale è stata altrettanto drammatica e intrigante della sua carriera di attore. Prima di trovare il vero amore con Kelly Preston, John ebbe la sua parte di intrecci romantici che non si conclusero nel migliore dei modi, a differenza del suo ballo con la principessa Diana. È una storia antica quanto il tempo e, per John, travolta tutto ebbe inizio quando aveva solo 13 anni. Il suo primo amore non fu altro che Denise Worms e fu un vero e proprio ottovolante di emozioni. Tutto cominciò con un'amicizia, come accade in molte grandi storie d'amore. Ma col passare del tempo il loro legame fiorì in qualcosa di più. Erano la coppia perfetta, insieme per circa cinque anni. Tuttavia, come spesso accade nella vita, le cose presero una piega inaspettata. La crescente carriera di attore di Travolta lo portò lontano dalla sua amata Denise. Mentre lui viaggiava per il mondo perseguendo i suoi sogni, lei rimase nella loro città natale. La distanza ebbe il suo peso e, alla fine, Denise prese la straziante decisione di porre fine alla loro relazione. Povero John rimase devastato, come chiunque si sarebbe sentito in una situazione simile. Ma il destino aveva altri piani per il nostro caro John. Durante un tour con il musical Grease a San Francisco, ebbe un incontro inaspettato con Denise. Deve essere sembrato a John un'opportunità per una riconciliazione, ma non era destinata a essere così. Invece di riaccendere la loro storia, Denise gli rivelò una notizia sconvolgente. Stava per sposarsi. Ci volle del tempo perché John accettasse la situazione. La sua vita divenne solitaria, ma non sapeva che ciò di cui aveva davvero bisogno non era una fidanzata, ma piuttosto un'amica. E così trovò proprio ciò che cercava in un luogo inaspettato. Durante le riprese di Devil's Reign, un film su un culto satanico, John rincontrò un'amica di vecchia data di nome Joan Prater. Lei fu un raggio di luce nel suo mondo buio e solitario. Come ricordò, entrambi avevamo bisogno di compagnia in quel periodo. Era un momento difficile per lui e gli amici che aveva non erano esattamente il gruppo più solidale. Ma Joan non portò solo amicizia nella vita di John, lo introdusse anche a qualcosa di nuovo. La Scientology. Era un membro della Chiesa da alcuni anni e, entro pochi giorni dal loro incontro, John passò da un atteggiamento indifferente a una completa immersione nella Scientology. Durante le riprese, John si ammalò di influenza e, dopo che Joan eseguì un rituale di Scientology, chiamato Touch Assist, rimase profondamente colpito dalla sua gentilezza. Espresse che era la prima volta che qualcuno lo aiutava senza aspettarsi nulla in cambio. Da quel momento non poté più farne a meno. Sembrava aver trovato qualcosa che risuonava profondamente in lui. Se ti sei mai chiesto come John Travolta si sia avvicinato alla Scientology, ora hai la risposta. Fu tutto grazie a un incontro casuale con un'amica durante un periodo turbolento della sua vita. Ma, come si suol dire, la vita ha un modo divertente di tornare in circolo. Non molto tempo dopo aver trovato conforto nella Scientology, John trovò nuovamente l'amore. Dimostra semplicemente che, ovunque ci porti la vita, ha sempre un modo di riportarci dove dobbiamo essere. Tutto iniziò quando un giovane e intraprendente, John Travolta, accettò di girare un film intitolato The Boy in the Plastic Bubble. Pochi sapevano che questo sarebbe stato l'inizio di un capitolo agrodolce nella sua vita. Sul set incontrò la sua co-protagonista, Diana Highland, che non solo era 18 anni più grande di lui, ma interpretava anche sua madre nel film. Ma, come si dice, il vero amore non conosce confini, nemmeno quello dell'età. Nonostante la differenza d'età, Travolta e Highland si sentirono attratti l'uno dall'altra e iniziarono a frequentarsi. Lei recitò in Eight is Enough, mentre lui divenne un sex symbol in Welcome Back Cotter. Sembrava una coppia fatta in paradiso. Infatti, Travolta era così preso che fece una promessa a sua sorella Ellen, dichiarando, «Se entro in questa relazione, ci entro fino in fondo. Ho solo tanta paura. Non voglio essere ferito di nuovo». Se solo avesse saputo che la sua paura si sarebbe trasformata in una realtà straziante. La tragedia colpì quando a Highland fu diagnosticato un tumore al seno e lei aveva già subito una mastectomia parziale. Nel frattempo, la carriera di Travolta stava decollando con il successo di Saturday Night Fever. Parlarono di matrimonio e bambini e sembrava che avessero tutta la vita davanti. Ma il destino aveva altri piani. Durante le riprese di Saturday Night Fever, Travolta volò a LA per stare vicino a Highland. Camminarono insieme nel giardino e, tragicamente, lei morì il giorno successivo. In un'intervista toccante con People, rivelò «Sentì il respiro uscire da lei. Fu una perdita devastante che lo avrebbe perseguitato per molti anni a venire». Riflettendo su quel periodo, Travolta lo descrisse come «le dieci settimane più difficili della mia vita». In un'intervista successiva con il Daily Beast, condivise come parte del suo dolore fosse filtrato nella sua interpretazione in Saturday Night Fever. Confessò «La mia fidanzata era appena morta e non mi rendevo conto che portavo il suo dolore. Ma nella scena in cui la ragazza mi bacia sulla guancia, inizio a piangere. La sua tenerezza mi ha fatto piangere». Travolta non si trattenne nel parlare del suo amore per Island. «Non sono mai stato così innamorato di nessuno nella mia vita», disse a People poco dopo la sua morte. «Dal momento in cui l'ho incontrata, sono stato attratto. Eravamo come due maniaci che parlavano tutto il tempo sul set di Bubble». Dopo un mese è diventato romantico. Continuò a rivelare i loro piani per il futuro dicendo «Ho scelto una casa e Diana e io stavamo pianificando di trasferirci subito dopo questo film. Se fosse stata viva, è molto probabile che l'avrei sposata». Ma sfortunatamente Island non sarebbe stata l'unica donna che travolta avrebbe perso a causa del cancro al seno. Altre sofferenze seguirono negli anni successivi, aggiungendo alla razza agrodolce del suo percorso romantico «Quando la vita ti presenta una sfida, è difficile mantenere l'equilibrio». Basta chiedere a John Travolta che, dopo la perdita della sua fidanzata Diana Island, si trovò ad affrontare un'altra battaglia. Questa volta con il cancro. Mentre godeva del successo nel suo ruolo di Danny Zuko, nel film iconico «Grease», sua madre, Helen Travolta, stava silenziosamente combattendo la sua guerra contro il cancro al seno. Ma essendo il figlio premuroso che era, la madre di John lo proteggè dalla sua malattia, non volendo aggiungere altro dolore a quello che aveva già subito. Quando John apprese finalmente della condizione di sua madre, non esitò a farsi avanti. La visitava ogni giorno e persino la serenava con delle canzoni nel tentativo di sollevarle il morale. Purtroppo, nonostante i suoi sforzi, Helen morì otto mesi dopo, lasciando John a confrontarsi con un'altra perdita profonda. Durante il suo lutto, John si trovò a dover affrontare l'occhio pubblico e le aspettative che ne derivavano. Mentre cercava di elaborare le sue tragedie personali, alcuni si interrogavano sul risalto che veniva dato al suo dolore. Ma come John avrebbe riflettuto in seguito? Molte persone si sono frustrate quando il mio dolore e la mia tragedia sono stati pubblicizzati. Dicevano «poiché sei famoso, improvvisamente la tua perdita è più importante della nostra perdita». Proprio quando pensava che le difficoltà fossero finite, la vita gli riservò un altro colpo. Sei mesi dopo la morte di sua madre, suo padre si risposò, con la stessa donna che era stata l'infermiera di Helen nei suoi ultimi giorni. Mentre la notizia avrebbe potuto lasciare altri sconvolti, la risposta di John fu caratteristicamente misurata. June è una donna molto gentile. Ma i colpi continuarono a piovere su John. Continuò a affrontare perdite e dolori, mentre diceva addio a molti altri membri della famiglia e amici lungo il cammino. Eppure, nonostante tutto, riuscì a mantenere la testa alta e ad andare avanti. Quando John Travolta sposò l'attrice di talento Kelly Preston, la coppia sembrava avere tutto, ma la vita aveva altri piani per loro. Il loro primo figlio, un ragazzo di nome Jet Travolta, fu diagnosticato con la malattia di Kawasaki all'età di due anni. Fu un duro colpo per la famiglia, ma si unirono per sostenere il loro bambino durante la sua malattia. Purtroppo la salute di Jet continuò a preoccupare e all'età di 16 anni morì. La perdita di un figlio è il peggior incubo di ogni genitore e, per John Travolta e Kelly Preston, divenne una realtà. La notizia straziante scosse il loro mondo e dovettero trovare un modo per affrontare la loro devastante perdita. Le circostanze che circondarono la morte di Jet erano avvolte nel dolore. Rapporti emersero dettagliando come Jet, che aveva combattuto la sindrome di Kawasaki sin da piccolo, avesse avuto una crisi mentre la famiglia era in vacanza alle Bahamas. L'impensabile accadde quando colpì la testa e, infine, cedette alla crisi. Fu un'esperienza straziante per la famiglia Travolta, che dovette contare l'uno sull'altro per trovare supporto in quel periodo buio. La forza e la resilienza di John Travolta furono messe a dura prova mentre cercava di dare un senso alla tragedia. Prima che i paramedici arrivassero, eseguì addirittura la rianimazione cardiopolmonare CPR su suo figlio, dimostrando un immenso coraggio di fronte a circostanze inimmaginabili. In una dichiarazione pubblica, sia John che Kelly espressero il loro profondo dolore e promisero di custodire i ricordi del loro amato figlio per il resto delle loro vite. Fu un commovente promemoria dell'amore duraturo che avevano per Jet e di quanto la sua assenza fosse avvertita. Dopo la morte di Jet, John Travolta parlò dell'impatto profondo che questa ebbe su di lui. In un'intervista, condivise le sue difficoltà nel trovare un significato nella vita e ammise che ci furono momenti in cui non voleva neppure svegliarsi. Fu una riflessione cruda e onesta sul dolore che stava vivendo, ma in mezzo all'oscurità c'era un barlume di speranza. Travolta attribuì alla Scientology il supporto costante ricevuto nei giorni più bui. Raccontò di come l'organizzazione gli fosse stata vicina per due anni solidi, offrendogli conforto e guida mentre cercava di affrontare il suo lutto. Questo dimostrò la potenza della fede e della comunità nel fornire la forza necessaria per andare avanti nonostante il dolore opprimente. Se affrontare il lutto non fosse stato abbastanza, Travolta si trovò a fronteggiare un altro tipo di sfida in tribunale dopo la morte di Jet. Ma qual era il motivo di questo inaspettato intreccio legale? In una trama degna di un thriller di Hollywood, John Travolta si ritrovò al centro di un caso legale riguardante un presunto tentativo di estorsione ai danni della sua famiglia. I protagonisti di questa storia includevano un paramedico, un senatore delle Bahamas e persino un parlamentare che sollevò sospetti riguardo a comportamenti discutibili in relazione alla morte del figlio di Travolta. I dettagli del caso erano scarsi, ma una cosa era chiara. Le posta in gioco erano alte, con una richiesta shock di 25 milioni di dollari. Man mano che il processo si svolgeva, Travolta fu chiamato a testimoniare rivivendo il giorno straziante della morte di suo figlio e i dolorosi momenti finali. Il processo si protrasse come un sequel interminabile, con colpi di scena che tenevano tutti col fiato sospeso. Ma proprio quando sembrava che il culmine fosse vicino, la trama prese una piega inaspettata. Informazioni riservate finirono misteriosamente in onda radio, portando a un annullamento del processo e lasciando tutti a chiedersi cosa sarebbe successo dopo. Con il tempo emerse che il cuore del caso ruotava attorno a presunti rifiuti di Travolta di somministrare cure mediche al figlio, un'accusa che egli negò con forza. L'aula del tribunale divenne un palcoscenico per racconti contrastanti e dibattiti accesi, con la verità appesa in bilico come un finale da cliffhanger. Secondo il sito ufficiale della Scientology, i membri sono autorizzati a cercare consigli medici convenzionali, ma l'uso di farmaci è mal visto. Questo portò a un acceso dibattito su se il trattamento di Jett fosse stato influenzato dagli insegnamenti della Chiesa. Dopo l'annullamento, il caso fu seccamente archiviato su richiesta di Travolta. Il suo avvocato concluse il tutto, dichiarando che la famiglia semplicemente non poteva sopportare un altro giro di teatrini legali. La famiglia Travolta ha affermato che questa questione ha causato loro uno stress e un dolore inimmaginabili, dichiarò l'avvocato, riflettendo i sentimenti di una famiglia che aveva già affrontato molte turbolenze. Ma i giorni difficili non erano finiti e la saga delle battaglie legali e delle tragedie personali continuò a svolgersi. Se c'è una cosa che possiamo dire di John è che non è estraneo alle battaglie legali. Ma il 2012 portò con sé la sua causa più grande e pubblicizzata. Ci fu un caso che fece scalpore in cui il nostro amato attore fu accusato di aggressione sessuale e molestie da non uno, ma due massaggiatori maschi. E non stavano chiedendo una cifra irrisoria. Ciascuno di loro richiedeva ben due milioni di dollari. Ora, questi due signori, chiamiamoli John Doe 1 e John Doe 2 per effetto drammatico, accusarono il nostro A-lister di aver fatto avance sessuali indesiderate. Ma John aveva al suo fianco il suo avvocato fidato, Marty Singer, che negò con vehemenza tutte le accuse, arrivando a definire le affermazioni assurde e ridicole. Bene, questo è un modo per difendere il tuo cliente. Ma Marty sottolineò anche che la prima accusa, secondo cui John avrebbe aggredito il querelante a lei, era totalmente falsa e inventata. Come lo sapeva, chiedete? Beh, si scoprì che il caro John era occupato sulla costa est, impegnato nella lavorazione di un film al momento dell'incidente presunto. Era un alibi inattaccabile. Come se le cose non potessero diventare più drammatiche, John Doe 1 alla fine ritirò la causa, dopo che un piccolo errore temporale emerse. E nel maggio 2012 entrambe le cause furono archiviate. Caso chiuso, giusto? Beh, non proprio. Oltre a questo succoso caso legale, circolarono anche voci riguardo alla sessualità di John. Alcuni mormoravano che potesse essere gay e, prima che potessimo persino riprendere fiato, dopo tutta la drammaticità in aula, giorni devastanti si avvicinavano rapidamente. Quando nel 2020 si diffuse la notizia della morte di Kelly Preston, il mondo rimase sbalordito. John Travolta, insieme ai suoi figli, Ella e Benjamin, annunciò la straziante perdita della sua amata moglie a causa del cancro al seno. Questa segnò la terza volta che il cancro portò via una donna a lui cara e il dolore era palpabile. Kelly Preston, una donna nota per la sua grazia e bellezza, aveva scelto di mantenere privata la sua battaglia contro il cancro. Era una lotta personale, affrontata con coraggio e determinazione. Travolta, in un commovente post su Instagram, rese omaggio alla sua defunta moglie, condividendo con il mondo il pesante fardello con cui portava la notizia della sua scomparsa. L'affetto e il supporto da parte di fan e amici furono una testimonianza dell'impatto che Preston aveva avuto durante il suo tempo su questa terra. In seguito a questa tragedia, Travolta è stato sincero riguardo al suo percorso attraverso il lutto e la perdita. In un episodio di Heart to Heart con Kevin Hart, parlò delle sfide nel spiegare il concetto di mortalità a suo figlio di dieci anni, Ben. La cruda onestà con cui affrontò questa conversazione riflette la profondità delle sue emozioni e la complessità di affrontare la perdita come famiglia. In una recente intervista con Esquire, l'iconico attore si è aperto sul suo personale viaggio attraverso il lutto e sulle preziose lezioni apprese lungo il cammino. Ho imparato che il lutto di qualcuno, vivere nel lutto, è qualcosa di personale, condivise Travolta. Il lutto è individuale e vivere il proprio percorso è ciò che può portarti alla guarigione. È un'osservazione profonda che parla della natura profondamente personale del dolore e dell'importanza di concedersi lo spazio per affrontarlo a modo proprio. Voci hanno iniziato a circolare riguardo alla possibilità che Travolta potesse tornare a esplorare l'amore. Alcuni rapporti suggeriscono che l'attore 69enne stia considerando l'idea di trovare nuovamente l'amore, con sussurri che lo vedono valutare l'assistenza di un servizio di incontri o di un matchmaker. Potrebbe John Travolta essere pronto a riaprire il suo cuore a nuove possibilità? È una domanda che ha suscitato la curiosità di fan e ammiratori. Dopotutto, l'amore ha un modo di ritornare nelle nostre vite, quando meno ce lo aspettiamo. Nonostante l'incoraggiamento da parte di amici e familiari a considerare di andare avanti, Travolta è stato molto cauto nel suo approccio alla guarigione. Crescere i suoi figli e affrontare le complessità del lutto sono stati in cima alle sue priorità, mentre continua a onorare l'eredità della sua defunta moglie. Attraverso tutte le prove e le tribolazioni della vita, Travolta è emerso come un simbolo incrollabile di forza e resilienza. La sua capacità di affrontare le tempeste di perdita e tragedia non è passata inosservata, con i fan che lo vedono come un'ispirazione nei propri percorsi attraverso le avversità. Anche sua figlia, Ella Bleu, testimonia lo spirito indomito e la forza duratura di suo padre. Ella Bleu e la Bleu, la figlia di John e Kelly, non è solo un'altra figlia di celebrità. È la prova vivente che la mela non cade lontana dall'albero. Come i suoi genitori famosi, Ella ha preso il virus della recitazione e brilla. Abbiamo tutti visto John sorridere per i successi di sua figlia nel corso degli anni, dichiarandosi un papà molto orgoglioso. Ma fu il turno di Ella di brillare quando si presentò su Instagram per celebrare il 69esimo compleanno di suo padre. In un post del 19 febbraio 2023, condivise un messaggio commovente insieme a una foto della coppia padre-figlia, definendo John il suo eroe e il padre amico e modello più incredibile che chiunque potesse desiderare. Se questo non conferma quanto sia straordinario John, cosa lo farà? Ella rivelò anche che lavorare con suo padre è sempre un piacere. Dai commercial per il Super Bowl a progetti comuni come The Poison Rose hanno vissuto momenti davvero divertenti insieme. E non dimentichiamo che Travolta non è solo il papà di Ella, ma anche il suo mentore nell'industria dell'intrattenimento. L'anno scorso, la talentuosa Ella Bleu Travolta ha lanciato la sua canzone accattivante Dizzy e chi era lì per mostrarle il suo supporto? Non altri che il suo famoso padre, John Travolta, che ha condiviso la canzone con i suoi numerosi fan su Instagram. Secondo Ella, collaborare con suo padre è sempre un piacere e formano una coppia da sogno. Quando le è stato chiesto se suo padre la imbarazza mai, Ella ha condiviso un divertente aneddoto su quando Taylor Lautner visitò la loro casa. «Ero totalmente Tim Jacob», confessò Ella, ricordando come lei e le sue amiche cercarono frenetiche informazioni su Lautner prima del suo arrivo. Tuttavia, suo padre, John Travolta, non poté resistere a svelare a Lautner il loro stalking online. «Ero mortificata», ammise Ella, ricordando come le si fosse colorato il viso, mentre suo padre rivelava la sua segreta ossessione. Nonostante questo momento imbarazzante, Ella e suo padre sono rimasti uniti nel corso degli anni. Infatti, Ella ha recentemente condiviso su Instagram una foto d'epoca che la ritrae con Lautner, prendendo in giro l'errore di suo padre. Nonostante il momento imbarazzante, Ella e John hanno mantenuto un legame stretto nel tempo. Sembra che imbarazzare i propri figli sia una competenza genitoriale universale e John Travolta non fa eccezione. Ma, almeno, Ella ha ottenuto una storia memorabile da raccontare e noi abbiamo riso. Grazie per aver guardato. Per una storia ancora più avvincente, clicca ora sul prossimo video che appare sul tuo schermo.